Le istanze presentate hanno avuto accoglimento e soprattutto hanno avuto garanzie e rassicurazione sia dal governo regionale che dal manager testa nella riapertura H24 dei presidi di pronto soccorso sia di Pescina che di Tagliacozzo, che verranno riaperti, questo è sicuro. I tempi sono brevissimi, c'è una ricognizione da parte del manager per reclutare le forze in campo. Non c'è ancora una data certa rispetto alla riapertura dei punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo. Questa mattina la Commissione Sanità, convocata dal presidente Mario Quaglieri, ha discusso la situazione della rete emergenza-urgenza marsicana, che nel dopo Covid resta monca di una parte importante che rischia di mandare al collasso soprattutto l'ospedale di Avezzano. I sindaci del territorio, come spiega il primo cittadino di Sante Maria e Lorenzo Berardinetti, avevano chiesto un confronto con l'assessore alla Sanità Averì e con il presidente Marsilio, che però non c'è mai stato. Auspicano comunque che i PPI tornino operativi al più presto. Insieme, tutti i sindaci abbiamo chiesto la votizione sia al presidente Quaglieri che al Simone Giro Sante. Veramente abbiamo chiesto sia alla Averì sia a Marsilio un incontro, ma non abbiamo mai ricevuto l'assenza di questo incontro. Sulla stessa linea il sindaco di Pescina, Stefano Iulianella, che critica l'assenza dei vertici del governo regionale. Gradivamo la presenza, l'abbiamo richiesta con due note, dell'onorevole presidente Marsilio e dell'assessore Verì, che purtroppo non sono presenti in sede di commissione, non lo sono, nonostante ci sia un consiglio regionale che sta iniziando e quindi la loro assenza mi sa tanto di disinteresse per una problematica che non il sindaco di Pescina, non il sindaco di Tagliacozzo, ma 120.000 abitanti stanno sollevando. Tra l'altro abbiamo raccolto più di 11.500 firme. Duro anche il commento di Marianna Scoccia dell'Udc, che aveva chiesto la riapertura dei PPI H24. Nel momento in cui ha parlato il direttore Testa ha detto che per il momento non ci sarà nessuna riapertura dei presidi di Pescina e Tagliacozzo. Dall'opposizione continuano a piovere critiche alla giunta Marsilio. Sara Marcozzi, capogruppo pentastellata, attacca anche la narrazione propagandistica fatta da Matteo Salvini nella giornata di ieri, quando è arrivato all'Aquila, per inaugurare la nuova sede della Lega nel capologo di regione. Ieri abbiamo visto una visita di Salvini e un racconto di Salvini che ci racconta una realtà parallela rispetto a quello che avviene nella nostra regione. Salvini ci parla di quanto sia efficiente regione Abruzzo, di quanto il governo regionale sia gradito. In realtà forse non gli hanno raccontato a Salvini che la legge approvata da questo Consiglio regionale, voluta dalla maggioranza, è priva di coperture, per cui nessun aiuto o quasi arriverà in favore degli abruzzesi. Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico, attacca invece sulla pace legale e il condono che riguarda in particolare la sanità privata. La legge cura Abruzzo è stata appena impugnata dal Consiglio dei Ministri. Concepiscono una norma per far arrivare 162 milioni di richieste transattive, di cui quasi 110 sulla sanità, e che sarebbero andati a sottrazione delle prestazioni di cura per quanto riguarda le persone, per i tempi d'attesa, per tutte le prestazioni sanitarie che riguardano questa regione. Una sottrazione secca al Fondo Sanitario Regionale, una vera e propria vergogna per la quale abbiamo fatto denuncia presso tutti gli organi, anche la Procura della Corte dei Conti, e ovviamente il MEF ci ha dato ragione. Oggi Marsilio di fatto presenta un disegno di legge approcrativo che dà ragione a noi della battaglia fatta.